Eccoci al collegio dei Gesuiti di Alcamo dove è stata realizzata a tempo record un'opera che rientra in un progetto avviato dal comune di Alcamo. Abbiamo tentato di intervistare anche il vice sindaco e assessore Salvatore Cusumano ma non si è più reso disponibile. Allora ne parliamo con due protagonisti che sono Leonardo Ruvolo e Mauro Filippi e abbiamo qui con noi anche Luigi Culmone in rappresentanza di Lega Ambiente, adesso lui è presidente del circolo Ludovico Corrao di Lega Ambiente Alcamo. Leonardo Ruvolo e Mauro Filippi, intanto che cosa rappresenta quest'opera? Figurativamente rappresenta un rinoceronte che diventa un galeone, una trasfigurazione, un'interpretazione propria dell'artista. Per quanto riguarda il significato e quella che è l'opera diciamo proprio l'artista ha espressamente detto di non voler dire nulla, anzi chiedendo proprio che ci fossero dei feedback in materia più particolare dai più giovani, dai bambini perché comunque è molto legato alla visione che hanno i più piccoli rispetto alla sua opera e chiaramente diciamo quando un artista fa un lavoro a prescindere da qual è il significato è comunque una sua idea, è un modo di esprimersi il linguaggio proprio dell'artista, quindi non sono io che devo dire cosa significa. Questa è una domanda che faccio ad entrambi, come è stata realizzata? Abbiamo notato che già nel giro di poco più di un giorno, in due pomeriggi, è stata realizzata da quante persone? Una sola persona, l'artista si chiama Emanuele Pocchi, un ragazzo di Catania che noi abbiamo contattato veramente in tempo record perché siamo riusciti appunto ad avere l'opportunità di poter lavorare su questo muro in pieno centro storico. Lui si è infatti prestato ed era particolarmente entusiasta di poter realizzare un'opera così grande in un centro storico perché non capita, non capita spesso. È stata realizzata in due, sta facendo due pomeriggi in realtà due giorni pieni, ha lavorato praticamente 12 ore al giorno, però perché ora sarebbe dovuto partire per cui aveva anche lui questioni, cioè non poteva riuscire a realizzarlo in più tempo, però devo dire che il risultato è assolutamente per noi positivo e anche per lui ed è molto soddisfatto dell'opera. Bene, questo progetto prevede quindi la realizzazione di opere di questo tipo anche in altri luoghi del centro urbano? Dunque sì, in realtà io voglio specificare che si è parlato già di murale, sto soltanto utilizzando questa parola. Ci tengo particolarmente a sostenere invece che il progetto che noi abbiamo presentato, che si chiama Regenerations, poi spediamo sì anche 15, 16, vediamo anche qual è il riscontro da parte della cittadinanza. Non prevede assolutamente soltanto la realizzazione di murales, ma di street art diciamo in senso lato, in senso un po' più ampio, quindi anche installazioni artistiche, poster art, tutte le declinazioni che sta avendo quest'arte contemporanea diciamo in tutte le città, con vari esempi che vanno dai festival diciamo di carattere nazionale a Roma e nelle grandi città, ma anche quelli più piccoli, fino agli ultimi esempi di Caltagirone proprio in questi giorni che hanno anche loro realizzato delle opere in pieno centro storico a tutta altezza nel tessuto cittadino. Per cui diciamo quello che volevamo provare a proporre ad Alcamo era dare un segno, quindi presentarsi in una nuova veste e fare capire anche che c'è qualcuno che sta cercando di fare anche qualcosa di nuovo. Sapevamo e siamo certi che chiaramente anche qualsiasi opera come questa può suscitare critiche, deve suscitare critiche, polemiche perché è un segno forte e noi volevamo questo, però anche lo svegliarsi culturalmente e approfittando di questa occasione pensiamo sia assolutamente un valore positivo. Quindi questa figura che per metà è un rinoceronte, per un'altra metà è un veliero, che messaggio intende veicolare in sintesi? Diciamo che figurativamente non c'è un messaggio diretto che vuole lanciare, ma vuole anzi raccogliere feedback. Lui ci ha detto, noi abbiamo chiesto... Non vuoi parlare in italiano, scusa, siamo in Italia. Parliamo in italiano. Adesso l'avete dimenticato. Vuole raccogliere diciamo opinioni e pareri da parte della cittadinanza e soprattutto come diceva Leonardo dei bambini. Noi abbiamo chiaramente chiesto pure, eravamo curiosi, di sapere se ci fosse un messaggio diciamo al di là appunto della rappresentazione. Lui ha detto che tra i suoi disegni e la sua produzione, questo che era già un progetto che lui aveva realizzato, era quello che diciamo pensava si potesse prestare più a questo luogo. Si è parlato di genius loci, si è parlato già di molti argomenti e in quanto architetto diciamo ne sono assolutamente consapevole di quanto valore possono avere i luoghi storici e nei centri storici. però lui non ci ha voluto diciamo in questa fase lasciare dichiarazioni sul messaggio, voleva invece da parte nostra che raccogliessimo appunto questi pareri per poi eventualmente lasciare qualche dichiarazione o probabilmente anche no lasciare che fosse la cittadinanza a dare una libera interpretazione. Mi interessava anche dire che questo è secondo me anche un tentativo di realizzare ad Alcamo un più ampio percorso che si possa snodare nel centro storico come se fosse proprio un museo all'aria aperta che appunto anche per il fatto dell'arte pubblica cioè la gratuità dell'opera e la possibilità che la gente semplicemente passeggiando comunque visitando la nostra città riesca a incontrare delle nuove opere. E poi una cosa che mi preme, secondo me non c'è contraddittorietà tra il fatto che quest'opera è il luogo, cioè il fatto che sia il centro storico, ci siano le chiese del Seicento e il barocco di Alcamese, anzi proprio la contraddizione di due linguaggi che magari sembrano contraddittori ma se messi a confronto possono risultare appunto e dare nuovi risultati, nuovi spunti di riflessione e comunque questo è un primo tentativo e quindi proprio per questo anzi ci permette di migliorarci, capire in che direzione dobbiamo andare, chiaramente non potevamo prevedere il futuro, anzi adesso sappiamo come la città ha risposto, potrà rispondere e calibrare i successivi tentativi. Un'ultima cosa che posso aggiungere è che effettivamente l'abbiamo messa fino adesso, il progetto si chiama Regenerations proprio perché in realtà vuole rigenerare degli spazi urbani, a partire dal centro storico per poi espandersi anche fuori, però degradati, quindi questo, se non ci ricordiamo proprio questo, era un luogo dove purtroppo versavano, cioè che versavano in condizioni non proprio... Esatto, erano stati collocati dei pannelli che per molto tempo, e Luigi Culmone questo ciò può confermare, sono rimasti qui danneggiati, proprio tagliati, danneggiati, così come si presentano anche dei problemi per quanto riguarda la scala di accesso al terrazzo, insomma ci sono delle situazioni qui che devono essere poste in grande attenzione, anche il fatto che la facciata dell'antigua chiesa del Gesù è ancora transennata, non si sa quando si potranno effettuare i lavori, Luigi Culmone, qui c'è un problema, una vera e propria emergenza sul piano del recupero del patrimonio artistico e storico. Sì, è proprio così, intanto devo dire che questi ragazzi, sono ragazzi, consentitemi di dire questo, rispetto a me, sono un matone salem, loro sono ragazzi, buon per loro, sono dei... sono stati veramente bravi, nel senso che da un punto di vista tecnico, questo artista catanese ha saputo rappresentare, io ci vedo anche un certo barocchismo del Gesù, per cui benedice quando magari scalando le montagne ci ritrova un collegamento con il Seicento, perché questo collegio ai Gesuiti nasce nel Seicento. Io devo dire che non contesto affatto la bravura o la bellezza di questi giovani artisti, anzi devo lodare questo tentativo di trovare strade nuove. È chiaro che quando noi interveniamo e ce lo dicono loro stessi sul centro storico, non è materia disponibile né mia né sua né del giornale di Sicilia, ma è un patrimonio un po' dell'umanità, quella umanità che sta ad Alcamo, per cui qualsiasi progetto che va a innovare sul centro storico, a mio parere, anche perché abbiamo uno statuto vigente, quello del 1993 del Comune di Alcamo, che è all'insegna della partecipazione e della trasparenza. Per cui qualsiasi progetto che comunque intervenga sul centro storico ha bisogno di una partecipazione la maggiore possibile. Questa è la filosofia in tutto il territorio nazionale ed è la filosofia di un recupero del centro storico che non escluda assolutamente punta di modernità. Non dimentichiamo, come ha detto giustamente il giornalista del giornale di Sicilia, che questa attenzione non deve assolutamente farci dimenticare che noi abbiamo a pochi metri da qua un collegio dei Gesuiti transennato. Avevamo un'idea che io ho condiviso e condivido quella del richiamo proprio nel cortile dei Gesuiti alla migliore tradizione del serpotta, infatti c'erano le virtù teologali che sono nella chiesa di San Francesco di Paola che è il monastero delle Benedettine ad Alcamo, che venivano riprodotte, sono state vandalicamente distrutte e sostituito da questo affresco. Sono due cose distinte e separate, diverse, nessuno può dire se era bello quello o è più bello questo. È chiaro che quello si richiamava di più alla storia della città. Io credo che un maggiore coinvolgimento della società alcamese avrebbe, secondo me, potuto dare agli stessi artisti e alla stessa amministrazione un'idea che collegasse maggiormente. Ma questo nulla toglie alla bravura di questi giovani architetti. C'è una filosofia di fondo che è quella del recupero dell'identità e allora tutto ciò diventa più accettabile se noi, accanto a questo, vediamo un'azione forte, un'azione impegnata al massimo per il recupero del castello dei Contini e Modica, per la pulizia dell'area delle fornaci romane di Contrada Magazzinazzi. Mi permetto di ricordare che è un'area industriale di 2000 anni fa che un alluvione ha seppellito a tempo dei bizantini. Questo ha consentito la salvaguardia integrale di questo impianto industriale di epoca tardo romana che, come ha detto il professore Giorgetti dell'Università di Bologna, è uno dei rarissimi casi di impianto industriale romano che ci è pervenuto quasi del tutto intatto. Allora, va bene questo tipo di intervento concordato con la società e con le associazioni che si occupano di ambiente, di arte e dei beni culturali, ma va bene pure che noi comunque recuperiamo tutto quello che la storia, ed è enorme, ci ha lasciato in questa tempo, proprio perché non deve diventare un progetto fino a se stesso. Mi permetto, correggetemi se sbaglio, di dire a Bilbao, città che tiene molto, i baschi sono molto attenti alla loro identità, però a Bilbao c'è il museo Guggenheim che è modernissimo, apporta denaro a che cosa? All'economia basca che è un'economia che comunque ottiene molto la sua identità, tant'è vero che loro si ritengono baschi e non spagnoli. Non dico niente, allora tutto deve essere in un contesto armonioso, ecco io per dirlo come proprio la penso, visto che siamo in un contesto comunque che da quattro secoli respira aria di questa grandiosa impresa che sono stati i gesuiti ad Alcamo, se Alcamo è Alcamo con un ricchissimo artigianato, lo dobbiamo, alla presenza dei gesuiti, ecco io ci vedo un collegamento di questo galeone spagnolo che va verso l'America Latina, bene, con un omaggio a Papa Francesco non sarebbe stato sbagliato fare magari, e sarebbe il tecnico, l'artista avrebbe piegato pochissimo tempo, per esempio il monogramma di HS dei gesuiti, era un omaggio ancora a Papa Francesco, questo avrebbe dato sicuramente maggiore risalto all'opera legata alla tradizione di questa aria, hai detto tu bene il genio sull'oci e soprattutto secondo me avrebbe messo tutti gli Alcamesi al 100% d'accordo. Comunque grazie a questi ragazzi che sono veramente meravigliosi. Diceva del recupero dell'identità, secondo me l'immagine nel momento questo dipinto, nel momento in cui viene inserita qua vive anche di una nuova verità rispetto agli abitanti di questo luogo. No, è la verità perché noi abbiamo il museo e l'area paleontologica, come ha detto una volta Tozzi che è un grande paleontologo, che è l'unica al mondo, quella di Capo e Cappuccini, quindi non c'è bisogno per forza trovare il nuovo, ma siccome poi io da cattolico dico che esiste lo spirito santo, voi volete creare una cosa nuova, invece siete andati indietro i 100.000 anni. Bravi, avete ricollegato il rinoceronte all'elefante che è stato trovato a Capo e Cappuccini ed è al museo Gemmellaro. Siamo anche questa informazione. Bravi, siete molto più indietro di me voi. Posso ricollegarmi, mi sento all'esempio di Bilbao al quale sono particolarmente affezionato. Hai visto, hai visto, vi dovete iscrivere all'Egambiente. No, devo dire che voglio assolutamente ricordare anche che questo non è l'unico progetto che sta portando avanti l'amministrazione sul recupero degli spazi urbani e dell'arte. Ce ne sono vari, sono state coinvolte anche altre associazioni, gli assessori stanno cercando chiaramente anche questo di divulgarlo in altri modi. Chiaramente questo è soltanto il primo, è più provocatorio, su questo siamo assolutamente d'accordo, però... È un omaggio a Sant'Igaccio di Loyola, quindi non è provocatorio. Siete più cattolici di me, è difficile. Mi fa assolutamente piacere che il riscontro sia stato proprio questo e credo che sia anche quello che l'artista voleva, proprio stimolare il dibattito e far leggere ciò che ognuno voleva leggere in questa immagine. In quali altri luoghi pensate di agire adesso, Leonardo? Noi abbiamo individuato una serie di luoghi che si snodano in tutto il centro storico, un'area che fondamentalmente si snoda entro tre punti, uno era il collegio, l'altro era il castello e l'altro piazza mercato. All'interno di quest'area ci sono dei luoghi che sono come noi li abbiamo identificati, degli spazi urbani e risolti. Ti posso fare una domanda? Per esempio, visto che siete così attenti al castello dei conti di Modica, perché non pensate di recuperare la cappella dei conti di Modica che era dentro il castello e che si era distrutta vent'anni fa? Ma di idee, di idee ce ne sono. Allora, questa ti do un'idea, non è che il passato è tutto da demolire. No, 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 non è tutto da demolire, si deve confrontare con il passato. Allora, queste cose le dovete confrontare con la città e soprattutto non vi dovete sovrapporre all'anima di questa città, perché diventa un pochettino, un po' brechtiana questa cosa. Volevo ricordare poi che anche sull'associazionismo e sul fatto di ricollegarci alla città, questo non è un progetto anche solo mio, ma è anche patrocinato, sostenuto dall'associazione Conè, che è un'associazione culturale di Alcamo che agisce appunto per la promozione di eventi culturali gratuiti. Io vi invito come lega ambiente a parlarne assieme. Ne possiamo sicuramente parlare e rispetto a questo era anche legato a un festival che noi promuoviamo che sponsorizza linguaggi moderni, che è nuove impressioni e chiaramente ci sembrava il caso di iniziare attraverso un intervento distrittato. Io mi permetto di dire affettuosamente che, allora, per quanto riguarda, e questo ci potrebbe entrare poco, abbiamo avuto un grande intellettuale nel ventesimo secolo che è stato Giovanni Montini, Giovanni Battista Montini, Paolo VI, che è stato il primo che ha fatto entrare l'arte moderna nei musei vaticani. Allora, non è che il moderno deve fare appugni per forza con la storia. Ecco dove il senso dell'intervento assolutamente simpatico di lega ambiente. Allora, moderno e identità sappiamo collegare insieme. Io giorno 8 presenterò un libro, insieme al prodotto dal Rotary, che si ricorre la storia della congregazione del crocifisso ad Alcamo. Ebbene, c'è un capitolo, il crocifisso è la storia dell'arte. Cominciamo con l'arte delle catacombe, la prima immagine di Cristo in croce nelle catacombe di Roma e finisce con Chagall, che addirittura non era cattolico, era ebreo. Quindi, quello che io mi permetto a titolo personale di volere contestare è il moderno per il moderno, il moderno per dissacrare. Il moderno può essere l'espressione... Ma era sicuramente la nostra intenzione. E questo, io sono contento di questo, perché noi certe volte rischiamo di buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. Dobbiamo recuperare il paesaggio, la nostra storia, dobbiamo evitare la cementificazione del territorio, in maniera tale che noi, che voi, possiate rimanere in questa terra. Noi abbiamo una strada ben precisa da fare, che va verso Alcamo Marina, che si ferma a metà, però voi che dovete stare in questa terra. E questo passa dal rispetto della storia, dell'identità e soprattutto è la bellezza della Sicilia, anche perché l'arte è bellezza.